nella sua città natale. Cuore della narrativa di Mario Rigoni Sterna, uno dei più grandi e intensi scrittori del Novecento, è l'intreccio intimo fra memoria e natura. Alpino della divisione tridentina, medaglia d'argento al valor militare, è stato testimone fra l'altro della campagna di Russia e poi dell'internamento nei lager tedeschi. Il suo esordio letterario è datato 1953 con lo straordinario Il sergente nella neve dove descrive sempre sul filo della memoria la tragica ritirata del 43, in particolar modo la battaglia di Nikolaevka scritta nero su bianco dieci anni dopo ma che comunque diventa subito un successo letterario. Tutte le sue opere successive sono poi l'affresco del suo vissuto legato a filo doppio con la natura, la riflessione sull'essenzialità della vita, la verità anche se scomoda e dolorosa, il rigore e la coerenza delle scelte e soprattutto l'amore per le cose semplici, la montagna, la neve, il silenzio. Celebre la sua esortazione ai giovani, leggete, studiate, lavorate sempre con etica e passione, ragionate con la vostra testa e imparate a dire di no. Siate ribelli per giusta causa. testa e imparate a dire di no. Siate ribelli per giusta. testa e imparate a dire di no. Siate ribelli per giusta. Grazie a tutti.